Identificati e arrestati tre giovani, un albanese di 22 anni, un rumeno di 18 e un italiano di 20 anni per furti notturni ai danni di esercizi commerciali a Pesaro. Nel mirino dei ladri sono finiti bar, pizzerie, saloni di parrucchieri e negozi di elettronica con bottini costituiti da denaro fondocassa, telefoni cellulari, barrette di cioccolata riportando danni ingenti a porte e saracinesche forzate. Le indagini condotte dalla polizia per l'identificazione dei tre soggetti risalgono alla notte del 13 febbraio scorso, dove una pattuglia della sezione volanti della questura aveva allertato la squadra mobile dei vari furti verificati. L'operazione ha condotto la mobile a effettuare una perquisizione nella stanza d'albergo di una struttura ricettiva cittadina, dove i tre ragazzi alloggiavano. All'interno del cestino della stanza sono stati rinvenuti numerosi involucri di batterie di cioccolato, rubate alcuni giorni prima in un bar della zona del campus scolastico. Le investigazioni sono poi proseguite con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che ha consentito alla squadra mobile di acquisire ulteriori elementi a carico dei tre ladri e procedere al loro fermo per una prima serie di sei furti. Al di là del loro curriculum criminale, che è pressoché inesistente, e della giovane età di 20 anni, hanno sicuramente mostrato innanzitutto un scarsissimo timore delle forze dell'ordine, scarsissima collaborazione, anzi totale rifiuto, anche una volta scoperti e posti davanti alla verità di quello che era stato trovato in maniera inconfutabile. Questi ragazzi agivano celati dietro un passamontagna, avevano una borsa con tutti gli attrezzi utilizzati per lo scasso, borsa che a tutt'oggi ancora dobbiamo rinvenire, e anche se sono stati esortati a fornire una sorta di collaborazione nel far rinvenire questa borsa, questi ragazzi assolutamente sono stati refrattari a ogni invito. Il fermo è stato convalidato dal giudice di Pesaro, mentre le indagini proseguiranno allo scopo di verificare ulteriori altri furti a partire dalla fine del mese di gennaio.